Domenica 28 aprile è stato Valerio Lata l'uomo copertina della selettiva del campionato europeo minicross e femminile a Gazzane di Preseglie. Il romano ha vinto la classe 85 al termine di gare entusiasmanti. Lata ha conquistato la 85 con un secondo e primo posto di Manche. In gara 1 il giovane azzurro non è riuscito a superare lo spagnolo Edgar Canet, complice anche un terreno ancora vicido ma nella seconda uscita è scattato in testa divenendo imprendibile per tutti e guadagnandosi così il gradino più alto del podio. Nella 65 pari punti tra il francese Adrian Dagnon e lo spagnolo Joel Canadas. A prevalere è stato quest'ultimo per effetto della discriminante del miglior piazzamento nella seconda Manche. Miglior italiano Samuele Mecchi che ha concluso la giornata con un ottimo terzo posto. L'esperienza e il talento di Steffi Laier hanno fatto la differenza nella gara della femminile. La tedesca quattro volte campionessa del mondo si è giudicata la giornata con un secondo e un primo posto di Manche. La campionessa italiana Giorgia Montini è stata la migliore delle azzurre con un nono e un settimo posto nelle due hit.